La parte lesa è il comune di Bibbiena. È Daniele Bernardini, sindaco di Bibbiena, di intervenire riguardo all'emanazione dell'ordinanza di messa in sicurezza dell'area ex sacci, richiesta dalla Procura della Repubblica e dalle autorità ambientali competenti. Inizialmente l'area era stata posta sotto sequestro dopo il blitz della forestale su disposizione del PM Angela Masiello. In seguito le analisi di ASL e ARPAT e il conseguente ritrovamento di amianto ed altri rifiuti pericolosi avevano portato all'invio di un'ordinanza urgente ai comuni di Chiusi e Bibbiena per mettere in sicurezza l'intera area. Il recupero dell'area sacci, dice Bernardini, è sempre stata una delle priorità dell'amministrazione. Si tratta di un'area privata dove il piano regolatore consente qualsiasi tipo di intervento. Per questo abbiamo richiesto alla provincia di Arezzo Prima e la regione toscana ora di progettare e realizzare la variante alla strada regionale 71 che consentirebbe di demolire la fabbrica, attraversandola ed avviando così il recupero. Siamo ancora in attesa di ricevere il progetto preliminare. Sotto il profilo ambientale nel 2013 le autorità competenti hanno certificato al Comune la non necessità di bonifica del sito. Oggi queste stesse autorità ci dicono che tali rischi invece sono presenti. Ci siamo fidati, prosegue Bernardini, e affidati alle autorità ambientali competenti. Il Comune di Bibbiena vuol mettere a punto questo problema che lede anche l'immagine della nostra valle, ma allo stesso tempo non può accettare di diventare il capro espiatorio di una vicenda che questa amministrazione ha cercato di risolvere nel migliore dei modi, sollecitando più volte le parti coinvolte.